Questa è una tipica storia italiana, la storia di una piccola realtà a condizione familiare che unendo una smisurata passione alla competenza tecnica e a quell'ingegno che è parte integrante del DNA italico, ha lasciato il segno nel motorismo sportivo nazionale, in un arco di tempo che va dalla prima metà degli anni 70 alla seconda degli anni 90. È una storia che parla di tenacia, di volontà, di ingegno, di umiltà, di spirito di sacrificio, ma anche di innovazione e di successi. È una storia che non ha un lieto fine, una storia interrotta nel peggiore dei modi in una triste mattina del 1998. È la storia della Corsini, piccola factory lombarda che quasi casualmente si è facciata al mondo delle corse su pista e nel giro di pochi anni è diventata un punto di riferimento nella propria categoria. Per conoscere meglio la storia della Corsini dobbiamo necessariamente parlare della Formula Monza. Primi anni 60, gli anni del boom economico italiano, un periodo in cui l'automobile e l'automobilismo godono di un grande e crescente seguito. L'allora presidente dell'Automobile Club Milano, Luigi Bertet, intuisce che è arrivato il momento di lanciare una nuova categoria agonistica, una categoria economica, la porta di accesso per tutti quei giovani che vogliono avvicinarsi alle corse in pista. Propone l'idea a Romolo Tavoni, ex Ferrari e ATS, fresco direttore dell'autodromo di Monza. Tavoni capisce l'importanza dell'intuizione di Bertet e oltre allo scopo propedeutico intravede la possibilità di vivacizzare l'attività dell'autodromo brianzolo, all'epoca limitata a pochi eventi all'anno. Bertet e Tavoni, in concerto, sviluppano l'idea fino a tracciarne le linee principali. Capisaldo del progetto, l'assoluta economia della categoria, sia nella concezione delle vetture, sia nello svolgimento del campionato. Ipotizzano una manoposto essenziale, che garantisca un prezzo di acquisto il più possibile ridotto e renda i costi di gestione della vettura e della stagione agonistica, accessibili a gran parte delle tasche. Tavoni coinvolge i due ingegneri di chi era fama, a cui chiede di gettare le basi tecniche della monoposto. L'ingegnere Alberto Massimino, che mette sul tavolo un telaio essenziale, robusto e sicuro, almeno per i canoni dell'epoca, e il più noto Aurelio Lampredi, al quale viene dato l'incarico di fornire un motore semplice e affidabile. Lampredi, a sorpresa, propone il motore più elementare della produzione Fiat, il bicilindrico della 500 Giardiniera, che grazie alla sua costruzione a Sogliola, permette di abbassare il baricentro e allo stesso tempo, unito al cambio e alle sospensioni della vettura donatrice, si adatterebbe alla perfezione all'idea di monoposto essenziale. Il progetto della monoposto parte su queste credenziali. Lampredi calcola misure e distribuzione dei pesi, che alcuni artigiani modenesi provvedono a riportare nella realtà, costruendo i primi telai, mentre con la collaborazione del noto preparatore Bosato si lavora sul motore, riuscendo a recuperare una decina di cavalli dai circa 20 originali e quasi 2000 giri dai circa 4000 del motore di serie. Contemporaneamente si continua a sviluppare la formula con cui regolamentare la categoria. Una brillante intuizione, ideata per incrementare il numero di partecipanti, è quella di non vincolare da brevetto il progetto della monoposto, per cui chiunque può costruirne una seguendo dati e misurazioni ufficiali. Così, oltre ai preparatori più noti del periodo, come Repetto, Reggiani, Libertini, Vargiu, per citarne alcuni, anche semplici meccanici dalle veleità sportive si cimentano nella costruzione delle nuove monoposto. Tra i tanti ricordiamo Cavallini, Mercatelli, Ragaiolo e Bartoli. Dopo una gestazione durata qualche mese, nel 1964 viene presentata la nuova categoria XI, la formula 875 Monza, dove 875 sta per 875.000 lire, il prezzo stabilito come tetto massimo per l'acquisto di una monoposto, e la cifra più bassa per poter iniziare a correre in pista. Tra l'altro pagabile comodamente, versando 200.000 lire all'ACI come acconto, rateizzando il resto e facendo domanda all'AXI per il contributo di 250.000 lire, che la tassa IG di 250.000 lire rendeva praticamente inutile. La prima gara ufficiale parte giovedì 6 maggio 1965 ed è inizio al primo trofeo cadetti, sponsorizzato dalla Shell. Il successo del neonato campionato è superiore a ogni più rosea previsione. La prima stagione, svolta su 10 gare, vede un totale di 528 iscritti, il che costringe gli organizzatori a suddividere ogni gara in almeno 4 batterie di qualificazione da circa 25-30 concorrenti. Oltre alla grande partecipazione di piloti, la nuova categoria gode di un grosso seguito di pubblico, che le permette di passare da categoria di contorno, che si correva solitamente il giovedì, spesso in notturna, a vera e propria attrazione dei weekend di gara, grazie alla spettacolarità delle competizioni e all'elevatissimo livello agonistico, garantito dall'uniformità di prestazioni delle volte. La prima edizione del trofeo cadetti è vinta da Maurizio Montagnani. Il campionato, grazie a un successo indiscutibile, viene bissato già nel 1966, quando diventa trofeo cadetti agi, con una media di 100-110 iscritti a gara, sempre suddivisi in 4 batterie di qualificazione, per motivazioni logistiche e di sicurezza. A partire dal 1966 viene riconosciuto anche come trofeo nazionale XI, che ha classifica a sé rispetto al trofeo cadetti. Le monzine, o petarelle, come vengono simpaticamente soprannominate le piccole monoposto, si rivelano affidabili e il livello delle competizioni si innalza gara dopo gara e negli anni vedrà tra i partecipanti anche nomi che in seguito avranno palcoscenici ben più prestigiosi, primo fra tutti Michele Alboreto. La formula si conferma vincente e senza grosse varianti viene replicata con crescente seguito anno dopo anno. È nel 1973 che l'indimenticabile epopea della Formula Monza si incrocia con quella della Corsini, un nome destinato nell'arco di poche gare a diventare protagonista della categoria. È infatti proprio durante la stagione di Formula Monza di quell'anno che Luigi Corsini, un meccanico che corre nel motocross e che ha motori nel sangue, assiste a una gara del trofeo cadetti. È amore a prima vista, vende moto e tutta l'attrezzatura per correre e con il ricavato investe nella realizzazione di una Formula Monza, o meglio, della sua interpretazione della Formula Monza. L'aspettatore infatti aveva notato che queste monoposto potevano migliorare non poco nella dinamica e inizia a valutare alcune modifiche strutturali. Dopo aver studiato il regolamento si accorge che non vi è nessuna norma che vieti una diversa disposizione del motore. Sarà questa prima intuizione che porterà Luigi Corsini, alla ricerca di un migliore bilanciamento, a posizionare il motore al centro del telaio, alle spalle del pilota, ruotato orizzontalmente di 180 gradi, mentre il cambio si trova posteriormente. Nasce così la prima Corsini, che si distingue dalle tante altre Formula Monza per il design ricercato e per l'innovazione tecnica. Questa prima vettura esordisce nel 1974, proprio con Luigi alla guida, il quale partecipa a due gare. A dispetto delle prestazioni inferiori offerte dal motore di recupero, la vettura si dimostra altamente competitiva, funzionale ed efficace e la soluzione del motore centrale viene subito copiata da altri costruttori. Ma Luigi, da sempre appassionato di meccanica, grazie anche all'esperienza dietro al volante, capisce che si possono apportare altre innovazioni. Vende la sua prima monoposto e con il provento realizza un secondo telaio, ancora più affinato. Questa sarà la prassi che Corsini seguirà negli anni, evolvendo le sue monoposto telaio dopo telaio, applicando sempre nuove sperimentazioni. Studia diverse soluzioni per le sospensioni o una posizione di guida più avanzata, alcune di queste però troppo ardite e quindi respinte in verifica tecnica. Il nome Corsini comunque inizia a farsi conoscere sul campo. Le piccole monoposto beranzole sono le più efficaci e quelle meglio bilanciate. arrivano le prime richieste di fornitura. Luigi Corsini, che ha ricavato una piccola officina in un magazzino dell'abitazione di famiglia a Misinto, lavora le sue vetture nei ritagli di tempo e non può soddisfare le tante richieste che arrivano. Ma la sconfinata passione gli permette di migliorare costantemente le sue quattro ruote e nemmeno i tre scalini che separano il mondo esterno dalla sua officina artigianale, che lo costringono a smontare e portare i furi appesi ogni monoposto, ostacolano il suo percorso. Dal 1973 al 1983 Luigi Corsini realizza sette Formula Monza complete, confezionate con grande cura e ricerca del dettaglio. Il 1983 è l'anno del cambiamento, sia per Corsini che per il trofeo cadetti. Infatti, la XAI, sollecitata dai piloti e dai costruttori che chiedono di aumentare il livello di competitività e prestazionale della categoria, lancia la Formula Panda, che della Formula 875 Monza è erede diretta. Questa volta la base di partenza è l'anno nata utilitaria Fiat. Da questa i costruttori possono prelevare il motore 903 aste bilancieri raffreddato d'acqua della versione 45 e il cambio a quattro marce della versione 30. Questa nuova monoposto si rivela ben più raffinata e ricercata rispetto alla progenitrice. A partire dal motore, che nonostante i vincoli, come l'impossibilità di sostituire il carburatore originale, può essere oggetto di elaborazioni di fino, come la lucidatura dei condotti o l'equilibratura delle masse rotanti. Questo, abbinato ad aspirazione e scarico da gara, porta la potenza a circa 70 CV, che diventano 73 e 75 nei motori meglio sviluppati. Il telaio tubolare è concettualmente una diretta evoluzione di quello della serie precedente, ma decisamente meglio strutturato e bilanciato. Le sospensioni sono più raffinate, ispirate alle Formula 1 e Formula 3, con lo schema pull-road a triangoli sovrapposti, ideato da Brabham negli anni 60. I freni a disco sulle quattro ruote sono gli stessi montati all'avantreno della Panda. Anche lo sterzo resta quello di serie della simpatica utilitaria. Il regolamento fissa il peso minimo in 380 kg, con lo scopo di limitare l'utilizzo di materiali costosi e soluzioni estreme, ma rispetto alla Formula Monza, i costi li evitano parecchio. Una Formula Panda, nel 1984, costa circa 13-15 milioni di lire, a fronte dei 7 milioni e mezzo necessari ad acquistare una Panda 45. Un motore ben preparato può superare i 5 milioni, e considerando che si ottengono prestazioni abbastanza esasperate, vanno messe in conto almeno due o tre revisioni a stagione, con ovvie ripercussioni sui costi per affrontare un intero campionato. E anche i pneumatici contribuiscono a farli evitare i costi. Le vecchie Formula Monza montavano le stesse gomme della 500 di serie. Un treno permetteva di coprire l'intera stagione. Sulle Formula Panda sono adottate coperture semi-sleak pirelli, con misure differenti tra von treno e retrotreno, dalla durata ben più limitata. Nonostante questo, il campionato Fiat Panda segue il trend degli anni precedenti, e la media di iscritti a weekend di gara è compresa tra i 65 e i 90 partecipanti, che si affitano a costruttori che si sono fatti le ossa con la categoria progenitrice, che continuerà a convivere con la nuova Formula per altri due anni, sebbene in tono minore. Il livello prestazionale si alza, è tanto. Se una Formula Monza della generazione precedente aveva una punta massima di circa 140-150 km orali, la neonata Formula Panda, grazie anche alla possibilità di montare tre differenti rapporti al ponte, ha una velocità di punta compresa tra i 175 e i quasi 210, e uno scatto da fermo decisamente più rabbioso. In parallelo alle prestazioni, si innalza anche l'agonismo in pista e in generale il livello della categoria, ed è proprio la Formula Panda che permette a Corsini di fare il salto di qualità. Luigi si dedica anima e cuore alla realizzazione della propria interpretazione della Formula Panda, e in suo aiuto accorre il fratello primo, che diventerà il suo braccio destro in questa nuova avventura. L'inedita monoposto nasce tra il 1983 e il 1984, ed è allestita per Romeo Maestri, all'epoca uno dei migliori interpreti della Formula Monza. Se nuovi regolamenti impediscono a Luigi di concepire una vettura troppo innovativa, la sua maestria lo porta a realizzare una formulina rifinita nei dettagli, eccellente nell'aerodinamica e nell'assetto, aspetti sempre tenuti in grossa considerazione in casa Corsini. Le indubbie qualità della nuova Corsini vengono immediatamente notate nel paddock ed evidenziate dai risultati in pista, nonostante motori meno apprestanti rispetto ai concorrenti più forti finanziariamente. Arrivano commissioni per la realizzazione di altre vetture e la catena di montaggio si mette in moto con rinnovato entusiasmo, che porterà, in seguito, alla piena consacrazione, con il trasferimento dell'officina in un nuovo capannone a Cesano Maderno, dove ci si può dedicare con maggiore professionalità e dedizione a fornire monoposto sempre più curate ed efficaci. Quando le cose iniziano a girare avviene un fatto che da una parte potrebbe segnare le sorti della Corsini. Primo, intento a suostare una formula panda tra i box, viene sorpreso dal pedale dell'acceleratore, che rimanendo bloccato a tavoletta proietta la monoposto contro un cancello. L'urto è violento e Primo subisce un grave infortunio che lo metterà fuori gioco per diverso tempo. Per la Corsini la situazione potrebbe diventare drammatica, la piccola Factory non si può fermare. La richiesta di nuove vetture è in aumento, così come gli interventi di manutenzione su quelle già operative. C'è bisogno di qualcuno che prenda il posto di Primo. Quel qualcuno è suo figlio, Sandro Corsini, che fin da bambino ha respirato l'aria delle competizioni. Ha circa 15 anni, ma sa già lavorare e bene di meccanica, visto che negli ultimi tempi ha affiancato con sempre maggiore assidità e affiatamento i Corsini senior nella costruzione delle vetture. In breve diventa il perfetto collaboratore dello zio Luigi e insieme assembrano le loro formula panda. Il ragazzo è decisamente sveglio e con le idee ben chiare. È meticoloso, dotato di grande ingegno e spirito di osservazione e contribuisce a migliorare il livello qualitativo e prestazionale delle manoposto. Allo stesso tempo, seguendo le orme dello zio, è sempre alla ricerca di intuizioni finalizzate allo sviluppo di nuove soluzioni e questo spirito sarà, in futuro come nel recente passato, uno degli assi nella manica della Corsini. In breve, a dispetto della giovanissima età, diventa un punto di riferimento nell'ambiente. Nel 1987, appena compiuti 18 anni, prende la licenza di pilota e inizia a portare in pista le vetture che lui e lo zio sfornano con sempre crescente cadenza, con lo scopo, oltre che agonistico, di studiarne il comportamento e migliorarle, per renderle sempre più competitive. È in quel periodo che Sandro Corsini adotta il giallo come colore ufficiale delle vetture di famiglia, colore replicato dalla livrea del proprio casco, ispirata a quella suoggiata da Ayrton Senna. Oltre alla competenza tecnica, Sandro si rivela anche un ottimo collaudatore e velocissimo pilota, le cui velleità sono parzialmente frenate da motori inferiori ai migliori del paddock. Il giovane Corsini si mette in luce anche in pista e nei weekend di gara è facile vederlo lavorare sulle monoposte dei clienti avversari ed entrare sulla sua gialla Corsini solo pochi istanti prima della partenza. Oltre alla Formula Panda, Sandro, negli anni a seguire, si cimenta dietro il volante delle categorie superiori, come la neonata Formula Alfa Boxer o la Formula 3. Ma il sempre crescente numero di monoposto da realizzare e seguire lo porta a fare una scelta, limitare le incursioni in pista come pilota e concentrarsi sull'attività di progettazione, costruzione e sviluppo. L'esperienza in pista, sia dentro l'abitacolo che dietro il muretto dei box, ne fa in breve un tecnico a 360 gradi. È in questo periodo, a fine anni 80, che il trofeo cadetti subisce un importante cambiamento. Tavoni si rende conto che il costante e inesorabile aumento dei costi della categoria, dovuto ad una inarrestabile ricerca di prestazioni, sta snaturandone la filosofia. Da sempre contrario all'esasperazione delle prestazioni e dei costi, riformula il regolamento. A partire dal 1988 verrà adottato un nuovo motore, l'innovativo Fire 1000 concepito dalla Fiat, e questo propulsore, a parte piccole operazioni di equilibratura e messa a punto, non potrà subire elaborazioni. La nuova categoria si chiama Formula Fire Monza e debutta durante il 1988, inizialmente affiancando la Formula Panda, per sostituirla nel 1989. Gran parte dei costruttori e dei piloti non gradiscono il cambiamento e boicottano il nuovo campionato. Alla Corsini invece puntano tutto su questa nuova versione del trofeo e fin da subito studiano le modifiche da adottare sui telai per poter montare il nuovo propulsore. Siamo a metà 1988 e si svolge la prima gara del rinnovato trofeo dedicato alle monoposto più piccole. Al via si presentano soltanto due vetture, la Corsini di Pessina e la Tatus di Cerizza. Pessina stravinge, portando l'anno nata Corsini-Corse al primo successo. Già dalle gare successive il numero di scritti cresce, prima gradualmente, poi esponenzialmente. A fine stagione è la Corsini di Spiga a vincere il primo campionato trofeo cadetti Formula Fire. L'anno successivo vede la nuova formula affermarsi e sebbene non raggiunga i numeri eclatanti delle precedenti edizioni diventa un nuovo clamoroso successo. E proprio nel 1989 nasce la prima Corsini Formula Fire, non la vecchia Formula Panda adattata, ma un'inedita monoposto progettata appositamente per il nuovo motore e per il nuovo regolamento. Sarà un'intuizione di Sandro Corsini a realizzare ancora una volta una vettura all'avanguardia. Il giovane, spulciando tra le pieghe del regolamento, scopre che non viene una regola che imponga il metodo di fissaggio della carrozzeria al telaio. Incolla quindi la scocca in vetroresina al telaio tubolare, annegando quest'ultimo nella resina. Questa soluzione inedita permette di aumentare considerevolmente la rigidità torsionale della monoposto e di conseguenza l'efficacia in curva. Gli altri costruttori contestano questa soluzione, ma la commissione tecnica la giudica regolamentare. La nuova Corsini, detta legge in pista, è nel 1990, pilotata dallo stesso Sandro, che torna ufficialmente alle corse, vince il trofeo cadetti e sfiora il titolo italiano. Le vetture della Corsini Corse, denominate CLS, cioè Corsini Luigi Sandro, si rivelano come tradizione tra le più efficaci e curate, sia nei particolari che nell'aerodinamica e nella meccanica. Il verdetto della pista le vede sempre più spesso ai vertici, ma zio e nipote non si cullano sugli allori e continuano il percorso evolutivo delle proprie creazioni. Tra il 1990 e il 1995 la Corsini Corse vince cinque campionati. Mentre la Corsini l'attività è sempre più intensa e la pista regala sempre nuove conferme, durante il 1993 improvvisamente viene a mancare Luigi. Sandro si trova a dover gestire, giovane e solo, oltre ad un incolmabile vuoto, l'intera struttura della Corsini Corse. Affiancato dal validissimo Gianluca Reinoldi, tecnico da pista specializzato nella messa a punto dei motori Fire, negli assetti e di tutto ciò che gravita intorno alle monoposto e alle gare, Sandro Corsini accetta la sfida. A suo fianco, altri preziosi collaboratori, come la figlia di Luigi, Sara e Alberto Sardo, tengono in piedi e rafforzano la piccola factory. E c'è bisogno di solide basi, perché oltre a evolvere le Formula Fire, che negli anni seguiti diventeranno Formula Junior, Sandro realizza anche monoposto più complesse, come alcune Formula Alfa Boxer e in seguito una Formula Renault. Ma l'attività principale, l'asse portante della Corsini Corse, restano le piccole monoposto del Trofeo Cadetti. Tra la produzione di nuovi telai e la manutenzione di quelli già consegnati, l'attività prosegue a ritmo serrato. I piloti sono soddisfatti di quelle piccole monoposto efficaci e robuste, e in Corsini la gratificazione è tanta. Anno dopo anno continua quel percorso evolutivo ispirato da Luigi e portato avanti da Sandro. E proprio a Luigi è dedicata la nuova Formula Fire ideata da Sandro, la CLS 94, che estremizza tutti i concetti messi in pratica dalla Corsini. Anche questa si rivelerà vincente. Dalla prima Formula Panda del 1983 alla nuova Formula Fire del 1994 sono state realizzate 45 Corsini. L'attività prosegue e nonostante un lieve calo di interesse da parte di piloti e pubblico nei confronti della Formula Junior alla Corsini tutto procede al meglio, almeno fino alla mattina del 13 aprile 1998. È il lunedì dell'Angelo e sul circuito di Magione si svolge il weekend di gara Pasqua del pilota. Sandro Corsini, che a causa degli innumerevoli impegni legati alla propria factory ha praticamente abbandonato le competizioni, prende il via su una Corsini lasciata libera dal pilota ufficiale. Durante un'accesa bagarre con un altro pilota per il settimo posto, le due formuline entrano in contatto e la Corsini finisce fuori strada. L'elevata velocità in quel punto di circa 150 km orari e l'erba ancora bagnata fanno il resto. La piccola manoposto schizza sul prato fino ad impattare di lato contro un muretto. Per Sandro Corsini, che ha compiuto da pochi giorni 29 anni, non c'è più nulla da fare. Lo sgomento è tanto e si intreccia con le polemiche. Quel muretto era già sotto accusa per un altro grave incidente avvenuto mesi prima, ma era rimasto lì senza protezione. senza che nessuno intervenisse per metterlo in sicurezza. Ma si parla anche di residui di olio sull'asfalto a causa di una rottura avvenuta in una gara precedente. Le recriminazioni sono tante, ma davanti al fatto compiuto non ci sono alternative se non lo sconforto, la rabbia, l'accettazione. L'unica banale consolazione è quella che ci fa pensare che Sandro Corsini è venuto a mancare mentre faceva ciò che più amava nella vita. E così, in un'umida mattina della primavera 1998, termina la breve ma intensissima esistenza di Sandrino Corsini, un ragazzo cresciuto e affermatosi molto in fretta, grazie a una forza di volontà e a un impegno non comuni. Un ragazzo che ha lasciato un grosso vuoto umano, emotivo, ma anche tecnico nell'ambiente delle gare. Ma ciò che più conta è ciò che di concreto si lascia, la conferma che nella vita non conta la durata, conta l'intensità, la pienezza con cui viene vissuta. Ciò che più importa è il segno, l'esempio che si lascia. E Sandro Corsini e la Corsini Corse hanno lasciato il segno a partire da questa bella storia, appassionante, emozionante, anche se dal finale amaro. Una storia fatta di vera passione, spirito di sacrificio, umiltà, caparbietà e di ingegno, tutti gli ingredienti della scuola artigianale italiana più autentica. Ma la Corsini Corse ci ha lasciato anche tante testimonianze oggettive del proprio lavoro. Sono ancora tante, infatti, le manoposto che ancora corrono in pista o nelle gare in salita, tenendo alto il vessillo della piccola Fettori Brianzola e il ricordo di Luigi e Sandro Corsini. Una delle più belle Corsini sopravvissute è questa. È una Formula Fire realizzata nel 1989. È una vettura completamente restaurata e riportata all'originale splendore dopo un certosino lavoro di ripristino durato quasi quattro anni e terminato di recente. Colorata nella famosa Livrea gialla delle Corsini Ufficiali, è completamente originale, a parte alcune piccole modifiche volute dall'attuale proprietario. La monoposto è perfettamente funzionante e ancora tremendamente efficace. L'accuratezza costruttiva e la ricercatezza anche dei più piccoli dettagli è percepibile ed è la testimonianza diretta del livello qualitativo voluto e raggiunto dai corsini con le loro realizzazioni. Raffinate sospensioni a triangoli sovrapposti ripropongono l'efficacissimo schema pull-road ideato da Brabham negli anni 60 e adottato da gran parte delle monoposto e delle vetture da gara. I cerchi ruota da 13 pollici comuni alle formula Panda sono gli stessi che venivano montati sull'ultima serie della Bertone X1-9. La tiranteria dello sterzo, così come tutto l'impianto, è di derivazione Panda di produzione, così come i dischi dei freni. Le due pance laterali, ispirate alle monoposto più importanti e con precise funzioni aerodinamiche, contengono una al radiatore dell'acqua, l'altra quello per l'olio. Pregevole l'impianto di scarico libero in acciaio inox. L'abitacolo essenziale, come si conviene a una monoposto della vecchia scuola, è ordinato e funzionale. Da applausi la leva del cambio. Minimalista al sedile. Commovente la dicitura Corsini CLS al centro del volante. Notare l'aspirazione diretta sul carburatore, qui protetta per il trasporto. Per finire, ammiriamo l'essenzialità delle forme, finalizzata alla funzionalità e all'efficacia in corsa. Un piccolo capolavoro, che rende omaggio alla storia della Corsini Corse. Un piccolo capolavoro, che rende salvati al palazzo. Grazie per la visione!